Incoerenza. È questa la parolina magica che alleggia attorno l'arrivo di Sarri alla Juventus. Incoerenza perché? Incoerenza perché un allenatore come Sarri, che ha da sempre bistrattato quando si trovava al Napoli una squadra come la Juventus, le ha sempre dette di cotte e di crude, ora appunto quando viene chiamato, viene pagato fior fior di quattrini, viene detto appunto che può vincere qualsiasi cosa esiste per un club, per una scuola di calcio, beh e allora corre subito rimangiandosi completamente le parole dette in passato. Stesso discorso vale per la presidenza della Juventus che ha da sempre avuto parole non bellissime nei confronti di Sarri, magari a volte anche per rispondere a ciò che diceva l'allenatore ex Napoli e Chelsea, e adesso invece dopo aver cercato e aver corteggiato per lungo tempo Pep Guardiola si rifà all'ex allenatore del Napoli. Incoerenza anche da parte dei stessi tifosi della Juventus che hanno da sempre considerato Sarri un allenatore medioco, un allenatore che si faceva giocare bene la squadra ma che non era un allenatore vincente. Adesso che ha portato il Chelsea alla vittoria dell'Europa League e avendo ricevuto il no di Guardiola, adesso Sarri è diventato un grandissimo allenatore, un allenatore che può portare la Juventus a vincere la Champions League. Incoerenza anche da parte degli stessi tifosi del Napoli che iniziano a dire Sarri ci ha tradito, Sarri è un traditore come se Sarri dovesse obbligatoriamente, dopo essere stato soltanto per due anni credo a Napoli, deve essere per forza legato alla città in maniera imprescindibile. Non doveva accettare praticamente più nessun'altra squadra in Italia se non il Napoli. Penso che sia una sciocchezza incredibile, ti chiama la squadra più forte d'Italia, tu devi dire no perché se no vieni considerato un traditore da parte di una città dove sei stato meno anni rispetto a quanto tempo sei stato magari in altri lidi come ad esempio Empoli. Mi viene da pensare, perché mai dovrebbe essere considerato un traditore? Quindi se a Sarri lo chiamava, che so io, a Fiorentina, magari tra Empoli e Fiorentina ci sono non dei legami fantastici, allora veniva etichettato traditore dall'Empoli. Insomma, stiamo esagerando, sono professionisti ed è normale che se ti chiama la Juventus, chiunque sei, tu sei un allenatore anche originario di Napoli, anche tifoso del Napoli, oddio mi stava a cadere il cellulare, anche se sei appunto originario di Napoli, tifoso del Napoli, è normale che tu accetti, penso che sia una cosa ovvia. Anche voi tifosi del Napoli, in questo momento se foste appunto dei allenatori di calcio, in tanti di voi, secondo me quasi tutti, davanti a un contratto del genere presentato a Sarri, davanti alla prospettiva di vincere sicuramente il campionato, di puntare alla vittoria anche della Champions League, beh, voglio vedervi davvero dal vivo lì a non firmare il contratto e dire che è schifo, la Juventus mi fa schifo, no, viva il Napoli, ma il Napoli non ti chiama, ma viva comunque il Napoli, piuttosto che vado ad allenare la Serie D, ma io non ci vado alla Juventus. Incoerenza, la parolina magica proprio, vedete, aleggia praticamente su ogni dove. Io sono molto, diciamo, ho un certo pensiero riguardo l'arrivo di Sarri, perché secondo me è l'uomo giusto per la Juve, perché è l'uomo che può far giocare bene la squadra, perché ciò che Cristiano Ronaldo ha sempre chiesto, perché ragazzi, praticamente Allegri è stato cacciato via da Cristiano Ronaldo, che si sarà presentato lì da Nedved e Agnelli a dirgli eh, io voglio giocare bene, cosa sono questi giochi alla difensiva con praticamente palla a Ronaldo e ci abbracciamo tutti in Champions League, ovviamente perché in campionato è tutto un altro discorso. Non mi sta bene, non mi sta bene, voglio un allenatore che ci faccia giocare a due, tre tocchi, voglio un allenatore che faccia giocare bene la squadra. E sicuramente, ben sta continuamente cadendo in cellulare, porca vacca. E sicuramente la prerogativa era Guardiola. Guardiola ovviamente avrà fatto le sue scelte e avrà declinato l'offerta e sono tutti, alla fine, hanno girato, come posso dire, la frittata e sono andati verso Sarri, che era la seconda scelta. Ma secondo me, dopo Guardiola è la scelta più giusta da fare, se vuoi effettivamente giocare bene al calcio, perché è un allenatore che ti fa giocare bene al calcio. Ora però voglio vedere come reagirà anche lo spogliatoio della Juventus, quali saranno gli acquisti che saranno effettuati dalla Juventus per poter sfruttare il gioco di Sarri. Sicuramente Higuain resterà, quindi in attacco vedremo Ronaldo spostato a sinistra, di nuovo nel suo vecchio ruolo, e Higuain come punta. Mi ci gioco quello che volete, veramente che Higuain resterà titolare, giocherà titolare o comunque giocherà quest'anno nella Juventus. Insomma, o comunque punteranno a prendere Higuain, non mi ricordo più se l'hanno poi venduto al Milan o meno. Sapete che non... Scrivetevi un commento qui sotto, nel caso comunque la Juve cercherà di riprenderlo, in quel caso. Bisogna vedere, bisogna vedere, però credo fortemente che Sarri sia la persona giusta per vincere, per puntare ad arrivare a vincere la Champions League per la Juve. Secondo me adesso so che azzi, so che... Magari in campionato perderanno qualche partita in più in albergo, questo poco mi assicuro, però in Champions League magari qualcosina. Rispetto al Sarri del Napoli, perché se vi ricordate Sarri quando era a Napoli, distrattava l'Europa League. Cioè, giocava con... Ma sì, andiamo in Europa League, però io dobbiamo puntare al campionato. Era un Sarri diverso. Adesso, andando al Cessi, forse ha capito, forse, forse ha capito, che deve puntare al 100% in ogni singola competizione. Forse lo ha capito. Fatemi sapere in un commento qui sotto, voi cosa ne pensate ragazzi? Grazie mille di aver visto questo video. Vi ricordo che da adesso in poi usciranno almeno un video al giorno qui sul secondo canale, quindi iscrivetevi assolutamente, ci punto, almeno un video al giorno deve uscire assolutamente. Grazie mille di aver visto questo video, un saluto. Ciao da Papyrus.